Amichevole in famiglia oggi per l'Aquila Calcio, che sabato al Fattori incontra la capolista Spalla. Torna a disposizione il difensore Emanuele Pesoli, fermato nei giorni scorsi dall'influenza, e anche Giordano Maccarrone prosegue il suo programma di recupero dopo l'infortunio. Trova una ventina di giorni, il difensore siciliano dovrebbe tornare a disposizione di mister Carlo Perrone. Intanto la Lega ha ufficializzato che la settima giornata di ritorno, l'Aquila tutto cuoio, si giocherà sabato 27 febbraio al Fattori, mentre il derby a Teramo andrà in scena il 24 marzo. Quella che si è appena conclusa è stata una settimana complicata per l'Aquila Calcio, la penalizzazione, il ricorso che è stato presentato dagli avvocati Celani e Tortorella e le notizie sulla trattativa societaria. Domenica al Fattori c'erano anche gli ex dirigenti del Martina Franca, De Simoni e Folgori, che si sono presentati all'Aquila per entrare in società, facendo riferimento a Graziella Gruppa. A questo punto però la trattativa sembraersi essere raffreddata, dopo che il lavoro giornalistico del collega Stefano Dascole del Messaggero ha fatto emergere tutte le lacune di quel progetto. Gianni Gori, infatti patrono del Graziella Gruppa, ha categoricamente smentito l'interesse ad entrare in società all'Aquila. Più di un dubbio quindi sulla bontà dell'operazione, anche per i tifosi rosso-blu che, pur avendo con l'attuale proprietà un rapporto di alti e bassi, sembrano spingere oggi Chiodi e Mancini a proseguire in questa avventura. Certo è che in questo momento la squadra ha solo bisogno di serenità per raggiungere la salvezza.